max allora tu sei il capitano della squadra e questo è il tuo primo anno con questa fascia al braccio che sensazioni hai come ti trovi ma innanzitutto è ovviamente un grande onore perché rappresenti qualcosa di più grande rispetto alla tua individualità è un grande piacere nel senso che davvero bello vedere come un gruppo di 12 13 15 persone comunque abbia un riferimento proprio in te questo ti responsabilizza molto ti fa crescere anche in aspetti che non sono solo tecnici o tattici ma proprio come persona quindi un'esperienza che mi sta formando tanto allora max ti manca il calcio a 11 oppure il calcio a 5 te l'ha fatto dimenticare visto anche le tante vittorie con il sant'agata ma devo dire che a me calcio a 5 piace veramente tanto è una figata perché hai sempre contatto col pallone e puoi sviluppare la tua tecnica al cento per cento puoi chiare ogni tanto il profumo dell'erba manca perché insomma calcio a 11 è la passione con cui sei nato però secondo me questo sport il calcio a 5 al di là che hanno sport bello da vedere perché anche al nostro livello in serie b vedi dei giocatori veramente tecnici poi è bellissimo da giocare perché hai sempre la pala tra i piedi è molto fisico e questo è un aspetto molto sottovalutato però io mi diverto come un matto davvero e sono molto contento di questa scelta bene l'importante è divertirsi insomma e vincere ovviamente max dopo 5 anni al sant'agata che deti sei fatto del mister e della società? dici un po' ma vabbè col mister proprio a livello personale mi trovo molto bene penso sia un allenatore che tira fuori tutto il buono che c'hai e anche quando hai finito il buono riesce comunque a cavarti qualcosa e riesce a farti fare la prestazione sempre e comunque quindi penso che è proprio a livello sia umano che sportivo sia allenatore con cui mi sono sentito più legato da quando faccio sport la società ti mette a tuo agio c'è tanto entusiasmo tanta voglia di fare sono tutte persone disponibili tutti ti fanno sentire importante e secondo me questo è un aspetto che incide tanto anche su come vivi la stagione cioè quando una persona ti fa sentire importante è normale che dai sempre quel qualcosa in più e appunto invece quando magari ti senti un pochino trascurato non riesci a mettere in campo tutto quello che c'hai quindi penso che sant'agata per il mister per l'ambiente per la società per il pubblico e anche per i compagni sia un posto fantastico dove fare sport questo sport in particolare adesso ti faccio una domanda che non ti aspetti forse che cosa pensano i vostri avversari quando scendete in campo con la maglietta di piccole trasgressioni penso che questo sponsor rappresenti molto bene la voglia che ci mettiamo in campo siamo veramente persone assetate di fare il risultato di raggiungere l'obiettivo e secondo me questo sponsor rappresenta molto bene quella voglia di eccedere quella voglia che abbiamo di non rispettare i nostri i limiti che ci vengono imposti oppure magari di non fermarci a quello che la gente si aspetta da noi quindi noi andiamo sempre oltre non ci fermiamo raggiungiamo sempre nuovi obiettivi quindi penso che questo non accontentarsi mai questa voglia che ci mettiamo sia ben rappresentata dal nostro sponsor ciao